Ciao a tutti da Vittorio, il turnover di Marco Baroni funziona. La Lazio è prima in classifica in Europa League con tre partite e tre vittorie facendo ruotare i giocatori, facendo giocare le cosiddette riserve in Europa e nonostante questo la Lazio ha nove punti in tre partite. Come mai Marco Baroni sta riuscendo nel turnover mentre allenatori più quotati come Simone Zaghi o Maurizio Sarri non sono mai riusciti ad applicare il turnover alla Lazio? Beh, ci sono due risposte. Quella più banale e quella più semplice è che per Marco Baroni sono tutti titolari non ci sono riserve e titolari, sono tutti e venti titolari. Ma questa è una risposta piuttosto semplicistica perché sono parole, poi sono i fatti che dimostrano quello che dice Marco Baroni perché in Twente Lazio partita importantissima per i biancocelesti ma anche Lazio Nizza Baroni ha votato quasi completamente la rosa addirittura manda si in porta al posto di Provedel e una tornazione generale con giocatori importantissimi come l'uno d'Avarez, ricordiamocelo re degli Assis in Serie A in Europa League è partito sempre dalla panchina addirittura ieri sera contro il Twente Guendouzi neanche convocato Guendouzi titolarissimo in Serie A e quindi non è solo a chiacchiere è anche con i fatti che Marco Baroni dimostra che sono tutti titolari ma ripeto Baroni lo può dire a noi poi dipende quello che dice nello spogliatoio anche Sarri parlava di turnover così come Inzaghi poi però nei fatti si capiva che c'era un gruppo di titolari che se erano in grado di camminare giocavano sempre penso a Ciro Immobile, Luis Alberto, Miliko e Savic e poi c'erano le riserve che erano chiamate a giocare in quei momenti di emergenza con Baroni questo non succede e è evidente che tutti i giocatori della Rosa sono parte integrante di questo progetto ma questa è la risposta più semplicistica poi bisogna andare nei dettagli e vedere come vanno le cose e possiamo fare un paio di esempi contro la Dinamo Kiev nella prima partita di Europa League Baroni ha iniziato questa tornazione importante molti, chiamiamoli titolari o comunque quelli che hanno giocato titolare in Serie A sono rimasti in panchina contro la Dinamo Kiev hanno giocato giocatori che finora erano rimasti in panchina penso a Nuno Tavares, ve l'ho già citato Nuno Tavares è il partito della panchina titolare era Luca Pellegrini Pellegrini che contro il Tuente ha fatto un partitone secondo alcuni di voi addirittura il migliore in campo per me Pellegrini ha giocato molto bene contro il Tuente e questo è un segnale importante però se andiamo a vedere la prima partita al primo minuto di Luca Pellegrini in stagione contro la Dinamo Kiev beh il primo tempo di Pellegrini ad Hamburgo perché ricordiamoci si giocò in Germania fu negativo io credo che nei primi 45 minuti Pellegrini ha sbagliato tutti i passaggi avuti a disposizione non ha azzeccato un tocco poi nel secondo tempo leggermente meglio ma in generale la prestazione di Luca Pellegrini contro la Dinamo Kiev fu negativa ecco, è là la grande differenza fra Marco Baroni e i suoi predecessori perché con Sarri, e l'abbiamo visto Luca Pellegrini è stato in panchina per mesi giocò una partita non andò benissimo e Pellegrini per due mesi non vide il campo anche con i zaghi succedeva che se una delle riserve buttato in campo andava male era tra virgolette finita invece con Baroni Luca Pellegrini contro la Dinamo Kiev non ha giocato bene contro Nizza Luca Pellegrini di nuovo titolare e questo è un messaggio importantissimo perché? perché dici al giocatore che la turnazione vale anche se giochi male non basta una partita negativa per dire basta, tu sei fuori dal progetto e contro Nizza per la Lazio era una partita importante perché dopo la vittoria fuori casa bisognava vincere in casa in Europa League per allungare e Luca Pellegrini è partito titolare contro Nizza e lì a differenza della partita contro Dinamo Kiev abbiamo visto un Luca Pellegrini migliore io ricordo il salvataggio all'ultimo minuto del secondo tempo ma Pellegrini contro Nizza ha fatto dei passi in avanti e ieri contro il Twente Luca Pellegrini ha giocato una grande partita ma in questo Luca Pellegrini ieri fra i migliori in campo c'è molto di Marco Baroni che ha avuto la pazienza ed è questo uno dei dati importanti perché quando fai turn over devi avere anche pazienza di aspettare il giocatore non puoi bocciare subito una cosiddetta riserva perché nella prima partita in cui gioca è andato male perché se nelle prime partite di Serie A non ha giocato ovviamente quando finalmente parte titolare ha bisogno di togliersi un po' la lungina di dosso di ritrovare il ritmo partita di ritrovare fiducia perché se non giochi non hai fiducia eccetera questo è forse la grande differenza fra il turn over provato da Sarri e da Inzaghi rispetto a quello di Marco Baroni con gli altri due allenatori al primo errore eri finito e non tornavi più a giocare con Baroni Luca Pellegrini contro Dinamo Ghev non ha giocato benissimo ma è ripartito titolare contro Nizza e ha fatto un passo in avanti contro il Twente è stato uno dei migliori e questo l'esempio perché Baroni sostanzialmente il messaggio che mi hanno dato al gruppo è siete tutti titolari ma io vi aspetto cioè non basta una partita giocata male per finire fuori e dire no, da adesso i titolari sono 19 Pellegrini è fuori e questo è molto importante perché poi il discorso va fatto su Luca Pellegrini ma va fatto lo stesso su Dele Basciro Dele Basciro era partito titolare nella prima di campionato contro Venezia dove giocò bene contro Udinese fece male ma non è che Dele Basciro dopo la brutta prova a Udinese è sparito da Rada è ripartito titolare contro la Dinamo Ghev e ha fatto gol e assist l'esempio di Dele Basciro è un altro che vi fa capire che Baroni ha capito che il segreto del turnover è quello di avere pazienza e dare a tutti il tempo di ritrovarsi l'esempio finale c'ha un A c'ha un A non sta giocando bene è un giocatore che però nonostante ogni volta che entra in campo quasi tutte le volte è entrato in campo non ha convinto Baroni gli dà un'altra chance perché lo sa c'ha un A giovanissimo 21 anni ha fatto un balzo in avanti importante perché con tutto rispetto passare da Salerno a Roma sono altre aspettative altre versioni altro modo di giocare e Baroni nonostante c'ha un A non abbia giocato bene nelle ultime partite e anche ieri contro il Twente non è che ha fatto questo partitone anzi Baroni lo ha schierato titolare e non l'ha sostituito all'intervallo lo ha fatto giocare ancora io onestamente quando è entrato Isaksen pensavo sarebbe uscito c'ha un A perché perché la Lazio stava un po' soffrendo c'ha un A non stava giocando bene io pensavo Baroni la vuole vincere toglie c'ha un A mettiamo Isaksen e andiamo a vincere la partita invece che fa Baroni toglie Zaccagni sostituzione preventivata perché Zaccagni era uno dei pochi titolari che è partito titolare contro il Twente e quindi è stato torto per conservarlo per domenica e tieni c'ha un A quello è un messaggio che mandi al gruppo e dici è vero non sta andando bene ma l'idea di fare un turnover è anche per preservare i giocatori fino alla fine quindi Zaccagni deve uscire perché domenica giocherà titolare c'ha un A ti do altri 20 minuti per dimostrarmi di essere un giocatore di livello e questo secondo me ha mandato un messaggio un altro messaggio al gruppo importantissimo non ha fatto una bellissima partita però piano piano ha ingranato sempre di più finendo diciamo la prova con forse la sufficienza ma è questo il dato importante tu non puoi fare il turnover e al primo errore è finita non giochi più no gli devi dare la possibilità di sbagliare gli devi aspettare il giocatore è questo che sta facendo Baroni ed è per questo che il turnover in casa Lazio sta funzionando mentre in passato non funziona questo ovviamente è il mio giudizio quale è il tuo scrivono e metti qua sotto e se ti è piaciuto questo video metti mi piace grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti